secondo me i tizi corazzati stavano rapinando la banca a cavolo è come in quel film quale quello con i rapinatori sorfisti assi bellissimo quello grazie Forza. Perfetto. Grazie, caro. Guarda quanti soldi. La sacca è piena. Cavolo. Nel vecchio mondo avremmo svoltato. Saremmo ricche. Però. Saremmo ricche. Saremmo ricche. Hanno assaltato la banca il giorno del contagio. E magari si sentivano dei geni. Saremmo ricche. 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 Saremmo ricche.